Ciao a tutti! Cosa vuol dire che una parola è polistetica? Spesso nella lingua italiana abbiamo diverse parole che possono avere diversi significati. Ad esempio la parola pesca può avere diversi significati. Abbiamo la pesca frutto, abbiamo la pesca come lottoria di beneficenza, abbiamo pesca come attività di prendere i pesci. Una parola è detta polisemica quando ha diversi significati. Ciao a tutti al prossimo video! Ciao a tutti!